Maledetta sosta! L'Avellino prosegue la sua marcia di avvicinamento in vista della gara interna con il Livorno in programma sabato alle 15, spulciando i dati relativi al proprio rendimento dopo il giro di Boa. Fermo il desiderio di invertire la tendenza, anche se i Lupi non sono l'unica squadra ad aver denunciato una flessione, una volta mandato in archivio il girone di andata. Cinque delle squadre che erano in zona playoff alla fine della ventunesima giornata hanno infatti perso terreno in modo netto dopo le prime sei giornate di ritorno del campionato di Serie B. Bari ed Avellino hanno messo insieme sei punti a testa, Novara, Perugia e Brescia addirittura quattro ciascuna, stanno recuperando il Cesena e il Pescara, 11 punti, indecisa ascesa Spezia, 14, Entella e Ternana, 12 a testa. E allora barra dritta verso la riscossa, ma le preoccupazioni non mancano. Ieri l'allenamento pomeridiano a porte chiuse e sostenuto a Torretti di Mercogliano ha lasciato in eredità due brutte notizie. La prima è la conferma dell'indisponibilità di Castaldo. L'attaccante prosegue con terapia e lavoro specifico in piscina per via dell'indurimento al polpaccio sinistro che lo costringerà con ogni probabilità a saltare le prossime due partite. La seconda si è consumata sul finire della seduta. Il portiere frattali è stato costretto a uscire a causa di una distorsione alla cavia sinistra ed è a rischio forfè o fredi e in preallarme. Questo pomeriggio allenamento a porte chiuse a Torretti di Mercogliano e fare i puntati sull'infermeria.